Vediamo cosa c'è nella confezione del Garmin Forerunner 735XT Ecco l'orologio Pintorino Un altro l'orologio e il cavetto di ricarica Manual di istruzioni Quindi questo è quello che c'è dentro la scatola Facciamo un breve setup Ecco il Garmin Forerunner 735XT Molto morbido il silicone E' abbastanza Abbastanza comodo Andiamo ad accenderlo Qui nel cinturino c'è una clip Che fa in modo di agganciarsi all'interno dei passanti Del buco del passante Allora andiamo ad accenderlo Eccolo qua Il pulsante di On e Off E' in alto a sinistra Vibra Selezioniamo la lingua L'enter è in alto a destra Distanza Enter Formato orario Andiamo a impostare l'anno di nascita Tenendo premuto Scorre Impostiamo quindi l'anno di nascita Peso Altezza E questa è la prima schermata del Garmin Forerunner Abbiamo attività Possiamo fare Possiamo insomma scorrere su tutte le impostazioni Per iniziare Abbiamo il tasto in alto Buongiorno Marius In attesa del GPS Vedremo poi Queste sono tutte le schermate Delle Delle varie Schermate di allenamento Vedremo poi in dettaglio come Ci si muove all'interno del Garmin Forerunner 735 XT